Pizzaboom contro FC8, ventunesima giornata alla Stella Azzurra. Entrambe le squadre sono in lotta per il settimo posto e per la salvezza, fino al settimo posto occupato allo Steaua. Pizzaboom ovviamente ha al di sotto delle aspettative di campionato. FC8 invece è squadra completamente nuova. Prova comunque a tenere buona la stagione raggiungendo il settimo posto. Rossi, buona visione di gioco del numero 10 del Pizzaboom sulla sinistra, ancora Pizzaboom da il tiro e poi il tap in si infrange sul palo, occasionissima per il Pizzaboom. Giannini per trovare lo spazio, Filippi, ottima decisione di passare all'esterno, palla poi al centro, la conclusione al volo, incredibile, un altro legno e stavolta proprio l'incrocio. Palla al centro da Cavani, ancora un legno, terzo legno, incredibile, Pizzaboom sfortunatissimo, ancora Filippi protagonista. Palla al centro, Cioccari non arriva il pallone, troppo alto, palla comunque finisce sulle giochia di Passone, il tiro da fuori! E' pazzesco Bastesin con le unghie ai punti, finora risulterebbe assolutamente vincitore, conclusione con una volta il miracolo di Bastesin, poi sulla linea viene gettata via il pallone. Buono il passaggio di Vincenzo, altrettanto la sovrapposizione di Minicucci che si è fatto vedere. Palla all'indietro, Gioia, la conclusione di Gioia! E il Siluro finisce in rete battendo Merciaro. Stavolta l'FC8 non ha sbagliato e va in vantaggio, incredibile dopo quello che abbiamo visto fare al Pizzaboom. Pizzaboom, tante occasioni, nessuno è andato in porto, un po' per i pali, un po' per Bastesin. Invece l'FC8 con Gioia si prende il primo gol della partita, è gol del vantaggio. Si attende il fischio dell'arbitro. Parte Cavaniglia, il destro non lascia l'incompensa, Giannini, la bomba! Che trova però l'opposizione di una testa dei difensori dell'FC8 e poi la conclusione. Comincia il secondo tempo tra Pizzaboom e FC8. Pizzaboom in vantaggio, 1-0 per la compagine in maglia nera. Ippoliti, Ippoliti trova la parabola incredibile ma Merciaro capisce tutto, ci arriva. Finora la pioggia non ha causato troppi problemi al terreno di gioco della Stella Azzurra, né ai giocatori. Palla lunghissima verso Ippoliti, la palla gli arriva, attenzione Merciaro, Merciaro deve coprire. Ippoliti però trova lo spazio, svariene difensivo del Pizzaboom e Ippoliti punisce per la seconda volta Merciaro. Primo gol di Ippoliti che fa coppia con Gioia sulla lista a marcature. 2-0 per l'FC8, Pizzaboom assolutamente deluso. A punire Merciaro che stavolta si salva, sarebbe stato davvero il colpo del capo per il Pizzaboom che ovviamente psicologicamente ne risente. Prova ad andarsene cavaniglia, si chiude però va a Filippi! Finisce qui il match. 2-0 per un FC8 che forse non è stato spettacolare ma sicuramente è stato molto più cinico. È raggiunto i tre punti con un Pizzaboom che con tre pali e due miracoli di Bastesin nel primo tempo potevano davvero avere una gioia maggiore. Ma questo è il calcio e l'FC8 può gioire. Stasera era importante prendere i tre punti che ci hanno fatto molto comodo. Abbiamo giocato bene, con grinta, con impegno. Speriamo che andando avanti facciamo altre belle partite come questa. Io penso che siamo stati sfortunati anche questa sera. Sei legno, sei legno il primo tempo, ha sfiorato il gol in varie occasioni. La squadra avversaria ha fatto due tiri in porta e due golle. Mi dispiace ai miei ragazzi. Scusatemi, mi dispiace. Dai a ierci.